A Palermo perché il Ministro dell'Interno Piantedosi è lì, ha omaggiato Falcone e poi partecipa al Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza Provinciale. Ora subito in diretta il nostro Fabio Nuccio. Sì, sicurezza, lotta alla mafia, ma anche i migranti saranno questi i temi che il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi affronterà oggi a Palermo, dove presiderà il Comitato Provinciale per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico. Ha atterrato questa mattina, il Ministro è andato prima a Capaci, dove c'è la Stele che ricorda l'anniversario della strage, e qui ha deposto una colonna dei fiori, poi alla Caserma Lungaro, sede anche del reparto scorte, e qui ha presentato assieme a Tina Montinaro, la moglie del capo scorta di Falcone, ucciso nella strage del 23 maggio del 92, il libro di Tina Montinaro. Non ci avete fatto nulla, è il titolo del libro, qui ha parlato di lotta alla mafia, ma anche della sua presenza. Il 25 aprile ha detto, ero qui in Sicilia il 25 aprile perché la mafia e il nazifascismo hanno molti tranti il comune. Fra poco inizierà il Comitato da Palermo, per il momento è tutto, ti restituisco le linee.